Tulipano Impianti, azienda leader nell'installazione di impianti di riscaldamento per privati e aziende. Razionalizzare il calore nei radiatori, alla fine dell'anno spendere meno di tasca propria. Le caldaie di nuova generazione sono quelle a condensazione, abbinate a sistemi anche di sfruttamento di energia solare, quindi per la produzione di acqua calda sanitaria, permettono dei risparmi che possono arrivare anche al 30% nei condomini dove si fanno queste riqualificazioni. Lo specialista del risparmio energetico. Tulipano!